A fronte di una crescente emergenza abitativa, a Pesaro ci sono ancora 41 case popolari gestite dall'ERAP, tuttora vuote perché continuano a latitare le manutenzioni. Una cifra che sale a 265 alloggi a livello provinciale, ma sulla quale la Regione Marche comincia a stilare un piano di interventi. In questi anni ho presentato diverse interrogazioni in Consiglio regionale, proprio per sollecitare l'ERAP a sistemare gli alloggi che attualmente ci sono, ma che non vengono assegnati alle persone che sono in graduatoria. Solo a Pesaro la graduatoria prevede oltre 400 persone, quindi parliamo di persone fragili, o dal punto di vista economico, o dal punto di vista sociale, o dal punto di vista lavorativo, o che hanno disabili in casa, quindi 400 persone che sono in lista d'attesa. Dalle verifiche fatte, solo a Pesaro ci sono oltre 41 appartamenti che attualmente risultano vuoti e penso che sia scandaloso che queste abitazioni non vengano messe a disposizione delle persone che ne hanno bisogno. Ho fatto una verifica per capire quanto ci vuole mediamente per ogni appartamento, affinché questi appartamenti possano essere messi a disposizione, è la media di circa 10-15 mila euro d'appartamento. Quindi parliamo di cifre veramente molto piccole. Durante la risposta all'interrogazione mi è stato assicurato che entro il 2024 saranno 15 dei 41 appartamenti che verranno recuperati, quindi che verranno messi a disposizione delle persone in graduatoria, con altri appartamenti che invece subiranno, avranno i lavori nel corso del 2025. Questa è sicuramente una buona risposta, ma oggi sapere che a livello provinciale abbiamo 265 appartamenti vuoti con tutta quella ricerca che abbiamo di appartamenti da parte delle persone più fragili penso che sia veramente una cosa negativa. Tra le risorse stanziate a Pesaro alcune riguardano case popolari a Vismara, altri cantieri in corso su via delle Vetrerie e via Mazza. Per quanto riguarda via Mazza sono oltre 30 appartamenti. Noi dovremmo cercare, dovremmo fare di tutto per evitare di ricreare quella situazione che si era creata qualche anno fa, c'è una situazione di disagio importante dove erano state concentrate persone con gravi problemi dal punto di vista psichico, con gravi problemi dal punto di vista soprattutto sociale e dovremmo per garantire che non si ripeta quello che c'era prima, cioè una sorta di situazione di notevole degrado in via Mazza e dovremmo fare attenzione e andare a segnare questi appartamenti alle persone che sicuramente hanno bisogno, ma cercando di evitare di mettere concentrati troppe persone che hanno problemi importanti dal punto di vista psichico o dal punto di vista sociale.